Guardare per credere Questo è il più bello Valdessa ricorda con orgoglio tre gol ma all'arbitro il signor Nicchi di Arezzo è piaciuto visto la stretta di mano, soprattutto il terzo Evita due difensori e conclude con un tiro di cui non si sa se apprezzare di più l'astuzio o la precisione La partita in pratica finisce qui Il secondo tempo diventa un inutile allenamento fra due squadre che regalano soltanto alcuni spunti di qualche preso